domanda 317 qual è la materia dell'eucaristia materia dell'eucaristia è il pane di frumento e il vino d'ova domanda numero 318 qual è la forma dell'eucaristia forma dell'eucaristia sono le parole di gesù cristo questo è il corpo mio questo è il calice del sangue mio sparso per voi e per molti a remissione dei peccati ora mentre mangiavano gesù prese del pane rese grazie e dopo averlo benedetto lo spezzò lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiate questo è il mio corpo che è sacrificato per voi fate questo in memoria di me poi dopo aver cenato prese il calice prese grazie lo diede loro dicendo bevetene tutti perché questi è il calice del sangue mio del nuovo ed eterno testamento che sarà sparso per voi e per molti in remissione dei peccati in verità vi dico io non berrò più del frutto della vita fino al giorno in cui ne berrò del nuovo insieme a voi nel regno di dio mio padre nostro signore quando indicò il pane che avevo in mano e disse questo il mio corpo cambiò la sostanza del pane nel suo corpo e quando disse questo il calice del sangue mio cambiò la sostanza del vino nel suo sangue dicendo poi fate questo in memoria di me diede agli apostoli ai loro successori e tutti i sacerdoti della chiesa il potere di cambiare la sostanza del pane del vino nel corpo e sangue suo la forma che si usa ora nel rito latino è più ampia ma le parole aggiunte non sono essenziali sebbene debbano essere pronunciate per volontà della chiesa per la consagrazione del pane la forma è questa questo infatti è il mio corpo e per quella del vino questo infatti è il calice del sangue mio del nuovo ed eterno testamento mistero di fede che sarà sparso per voi e per molti in remissione dei peccati riflessione chi potrà dire il rispetto che si deve al sacerdote che nel pronunciare le parole della forma eucaristica opera lo stesso prodigio che operò cristo esempi i protestanti separandosi dalla chiesa cattolica hanno perso il sacerdozio e non hanno più le carestie astituita da cristo un visitatore entrando nella splendida cattedrale protestante di basilea si scoprì il capo la guida gli disse non occorre scoprirsi perché qui non c'è nessuno aveva ragione assistendo all'età di cinque anni alla messa di un sacerdote novello nel momento della consagrazione la beata giovanna maria bonomi vide due angeli che alzavano l'ostia splendente di luce domanda numero 319 chi è il ministro della carestia ministro della carestia è il sacerdote il quale pronunziando nella messa le parole di gesù cristo cambia il pane nel corpo e il vino nel sangue di lui i concili della chiesa affermano chiaramente che il ministro della carestia è soltanto il sacerdote in primo luogo i vescovi che hanno la pienezza del sacerdosio e secondariamente i semplici sacerdoti per l'ordinazione ricevuta dal vescovo il quarto concilio la teranenza afferma che nessuno può fare o produrre il sacramento della carestia se non è sacerdote e il tridentino se qualcuno dirà che in quelle parole fate questi in memoria di me gesù cristo non istituì gli apostoli sacerdoti non li abbia ordinati perché essi e gli altri sacerdoti offrono il suo corpo e il suo sangue sia scomunicato solo i sacerdoti sono ministri della consagrazione invece per la distribuzione delle carestia anche il diacono col permesso del vescovo o del parroco può essere ministro straordinario le parole rituali della forma che il sacerdote pronuncia sul pane sul vino non sono solo indicative ma efficaci e fanno sì che la sostanza del pane del vino si cambi nel corpo e nel sangue di cristo le parole della forma sono efficaci per il potere che il redentore concede al sacerdote attraverso la chiesa nell'ordinazione nella messa è cristo stesso che comunica il potere efficace alle parole consacratorie del sacerdote perciò il ministro principale nella consagrazione delle carestie è cristo stesso il sacerdote umano e ministro secondario del quale cristo si serve come di uno strumento animato intelligente e libero riflessione che cosa sono le meraviglie della tecnica e della scienza moderna di fronte a ciò che compie il sacerdote nella messa esempio prima di istituire le carestie nostro signore volle preparare i suoi uditori con alcuni prodigi particolarmente con la moltiplicazione dei pani la prima volta con cinque pane e due pesci si aziona moltitudine affamata di 5.000 uomini senza contare le donne e i bambini la seconda volta con sette pani e pochi pesci si famò 4.000 persone oltre le donne e i fanciulli domanda numero 320 gesù cristo quando istituì l'ecaristia gesù cristo istituì l'ecaristia nell'ultima cena prima della sua passione quando consacrò il pane e il vino e li distribuì mutati in corpo e sangue suo agli apostoli comandando che poi facessero altrettanto in sua memoria la sera del giovedì che noi chiamiamo santo quando i giudei usavano consumare l'agnello pasquale il quale prefigurava la morte dell'agnello di dio che toglie i peccati del mondo gesù cristo celebrò la pasqua istituì l'ecaristia e diede a sé stesso come vittima e alimento delle anime dopo aver lavato i piedi agli apostoli gesù prese il pane lo benedisse e lo diede ai presenti mutato nel suo corpo poi altrettanto fece col vino mutato nel suo sangue nostro signore aveva promesso che sarebbe rimasto con gli uomini fino alla fine dei secoli e aveva dichiarato che chi non mangia la sua carne e non beve il suo sangue non avrà la vita tutto questo non si sarebbe avverato se non fosse stata istituita l'ecaristia come sacramento permanente è perciò indubitabile che quando gesù disse agli apostoli fate questi in memoria di me non intese limitare il potere di consacrare l'ecaristia agli apostoli ma volle trasmetterlo a tutti i sacerdoti di tutti i secoli attraverso l'ordinazione che avrebbe conferito la chiesa in suo nome e con la sua virtù riflessione quando facciamo un dono a un amico vediamo sempre qualche cosa di nostro cristo dona a sé stesso e per sempre esempi preparazione dell'ultima cena venne poi il primo giorno degli azimi nel quale si doveva immolare la pasqua cioè l'agnello pasquale allora i discepoli si avvicinarono a gesù e gli dissero dove vuoi che andiamo a fare i preparativi per mangiare la pasqua allora inviò due dei suoi discepoli pietra e giovanni dicendo andate e quando sarete sul punto di entrare in città incontrerete un uomo che porta una brocca d'acqua seguitelo fino in quella casa dove entra e riferite al padrone della casa il maestro dice il mio tempo è vicino verrò da te a fare la pasqua con i miei discepoli dov'è la sala dove possa mangiare la pasqua con loro ed egli si mostrerà un cenacolo al piano superiore grande con tappeti e cuscini già pronto lì apparecchiate per noi i discepoli andarono e giunti in città trovarono le cose come egli aveva loro detto fecero quindi come aveva loro ordinato gesù e prepararono la pasqua celebrazione della cena giudachea venuta la sera quando fu giunta l'ora egli arrivò e si mise a tavola con i dodici apostoli poi disse loro ho desiderato tanto di mangiare questa pasqua con voi prima di soffrire poiché vi dico che non la mangerò più finché non sia compiuta nel regno di dio e preso un calice rese grazie e disse prendete e distribuitelo fra voi poiché vi dico che d'ora in poi non verrò più del frutto della vite finché non sia venuto il regno di dio lezione di umiltà nacque poi fra di loro una discussione che di essi poteva essere stimato il più grande ma gesù disse loro i re delle nazioni le dominano e quelli che hanno autorizzato su di loro hanno nome di benefattori per voi però non deve essere così ma il maggiore di voi sia come il più giovane e chi comanda come colui che serve infatti chi è più grande chi siede a mensa o colui che serve non è forse colui che siede a mensa eppure io sono in mezzo a voi come uno che serve voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno come il padre mio ha preparato un regno per me affinché voi mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno e vi sediate sopra dei troni per giudicare le dodici tribù di israele quindi la voi piede agli apostoli dando loro un esempio in segne di umiltà e di carità fraterna e svelò il traditore giuda il nuovo comandamento quando finalmente se ne fu uscito giuda gesù disse ora è stato glorificato il figlio dell'uomo e dio è stato glorificato in lui e se dio è stato glorificato in lui anche dio lo glorificherà in se stesso e lo glorificherà presto figliolini sono con voi ancora per poco mi cercherete ma come disse ai giudei dove vado io non potete venire ora lo dico anche a voi vi do un comandamento nuovo che vi amiate a vicenda e amatevi l'un l'altro come io amato voi di questo conoscerà da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli se avete amore gli uni verso gli altri nostro signore istitui la carestia consagrando il pane il vino che distribui poi agli apostoli agli altri presenti domanda numero 321 perché gesù cristo istitui l'eucaristia gesù cristo istitui l'eucaristia perché fosse nella messa il sacrificio permanente del nuovo testamento e nella comunione il cibo delle anime a perpetuo ricordo del suo amore e della sua passione morte l'uomo deve a dio culto di adorazione ringraziamento riparazione per le offese di impetrazione per le sue necessità la maniera più alta e più preziosa di soddisfare a quest'obbligo è il sacrificio però gli uomini specialmente dopo il peccato non sono in grado di soddisfare in modo conveniente e adeguato a quest'obbligo perché sono esseri finiti e peccatori il figlio di dio volle supplire alla deficienza incarnandosi e immolandosi sulla croce sul calvario offerse un sacrificio di infinito valore pienamente degno di dio che sostituì tutti i sacrifici dell'antica legge che avevano valore solo in quanto si riferivano come figure e tipi al sacrificio della croce il valore infinito della passione morte del salvatore rende superfluo e illecito ogni altro sacrificio era però conveniente che il sacrificio di cristo fosse perpetuato nei secoli e in tutti i luoghi della terra perché tutti gli uomini potessero prendervi parte e offrire un degno culto di adorazione ringraziamento propiziazione impetrazione gesù cristo istituì l'ecarestia innanzitutto perché sia la continuazione incruenta e la rinomazione del sacrificio del calvario l'unico e perfetto sacrificio della nuova legge oltre che sacrificio nella messa l'ecarestia è anche alimento spirituale delle anime istituito per mantenere a crescere la vita della grazia in coloro che sono rigenerati dal battesimo per questo gesù comandò che gli apostoli e sacerdoti di tutti i tempi rinnovino il rito dell'ultima cena l'ecarestia è il ricordo perpetuo della passione morte di cristo non solo in quanto fa venire in mente il dramma del calvario ma perché rende presenti sull'altare quello stesso corpo che fu straziato e quel sangue che fu sparso nella passione morte nel sacrificio caristico inoltre è lo stesso sacerdote principale che offre il sacrificio della croce per mezzo del sacerdote secondario è la stessa vittima che fu immolata sulla croce in modo cruento e doloroso e nella messa immolata misticamente in quanto le specie del pane e del vino che contengono il corpo e il sangue vengono consacrate separatamente e con la loro separazione rappresentano la separazione reale del corpo dal sangue di cristo sulla croce gesù cristo istituì la carestia come sacrificio e come sacramento anche perché noi fossimo uniti come membra al capo e perché dal capo attingessimo la vita e i frutti della redenzione riflessione per corrispondere ai fini per cui nostro signore istituì la carestia come sacramento e come sacrificio dobbiamo comunicarci spesso e devotamente e partecipare attivamente sovente alla santa messa esempi la messa anche un valore spiatorio che viene applicato alle anime purganti che vengono così a beneficiare del sacrificio eucaristico la cui efficacia si estende a tutta la chiesa che ha nella messa il suo sacrificio una signorina era stata sei settimane all'ospedale quando uscì si trova senza risorse prima di mettersi a cercare un impiego entrò in una chiesa e con gli ultimi soldi che le restavano fece celebrare una messa per le anime purganti uscita di chiesa incontrò un giovane che le disse ho saputo che cercato un impiego andata a questo indirizzo andò e fu subito assunta come domestica qui fu colpita dalla vista di un ritratto appeso a una parete domandò chi rappresentasse era il figlio della padrona morto poco tempo prima e in lui la giovane riconobbe colui che l'aveva indirizzata a quella casa evidentemente il defunto aveva voluto pagare il suo debito verso chi l'aveva suffragato tanto generosamente i nuovi convertiti dei paesi di missione comprendono spesso il valore della messa meglio dei cattolici di vecchia data gli antropofagi convertiti nei dintorni del lago Stanley prima che vi fosse la ferrovia facevano 70 chilometri di strada per assistere alla messa domenicale il Newman che prima di convertirsi al cattolicesimo era arcidiagono protestante e che gli faceva notare che con la conversione avrebbe perso lo stipendio di 100.000 franchi rispose che una comunione sola vale assai di più non ma 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 Grazie a tutti.